Ciao, eccomi tornata con un nuovo video, lo avrete letto dal titolo, non vi fate forviare dalla scritta Wicon perché questo scatolo non contiene nulla di Wicon, ma come dicevo, lo avrete letto dal titolo ho ricevuto una box, non io, ma Marietta Spiccetta dalle mie amiche che circa due settimane fa era il mio compleanno hanno deciso di farmi una sorpresa un po' particolare sanno la mia passione per le pulizie, quindi hanno detto uniamo l'utile e il dilettevole te faremo il regalo vero, ma adesso, al momento, apri quello per Marietta quindi questo è il regalo di compleanno per Marietta, 3, 2, 1, non vedo l'ora di aprire bam dalle ciance, andiamo ad aprire e vediamo cosa hanno regalato a Marietta allora, me so preparata andiamo a vedere, in realtà loro non lo avevano scocciato ma ho dovuto scocciarlo perché avendo un gatto in casa voi potete capire, scatola e gatto è un binomio per chi ha un gatto, lo sapete, che non funzionava, quindi ho deciso di metterci lo scotch e poi fa anche più figo aprire lo scatolone così prima di tutto volevo fare i complimenti alle mie amiche perché è veramente un imballaggio perfetto quasi meglio di Amazon, io sono un'assidua frequentatrice di Amazon, Aliexpress e avete imballato meglio di Amazon e Aliexpress e ora vado a pescare random potrebbe succedere che nel mentre, fum, voi vediate la gatta che entra dentro lo scatolone quindi non vi preoccupate ma procediamo e andiamo a pescare random allora, il primo prodotto che pesco è una mega confezione da 2 litri di coccoline questo è il sensazione seta, non sono andata ancora ad annusarlo ma so sicuramente che mi piacerà perché io adoro coccolino comunque, la confezione è da 2 litri ed è per 22 lavaggi un altro prodotto che ho adorato, le mie amiche sono molto attente altrimenti non sarebbero mie amiche e quindi hanno visto nei miei video precedenti è il Chief Power & Shine questo è quello vetri, la confezione è da 750 ml ragazzi, è ottimo, ora io non mi sto ad alzare eccetera però vi farò vedere poi nei prodotti di Marietta Spiccetta Terminati che ne ho terminati diversi di questo marchio e mi sono piaciuti soprattutto questo vetri top sempre della Chief mi hanno preso questo lavapavimenti si chiama Easy Clean la confezione è da un litro e la profumazione è limone non ho mai provato appunto il lavapavimenti della Chief poi vi farò sapere di solito questa tipologia non so se mi piace tantissimo perché lo vedo molto 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 liquido mi sembrano un po' troppo allungati non ho sentito neanche la profumazione però ecco poi ne parleremo insieme togliamo tutto l'ambaradà sono state bravissime, ve lo dicevo prima nell'imballaggio e c'è un altro lavapavimenti ecco questo è uno dei miei preferiti è della Lisoform la confezione è da un litro è appunto disinfettante e detergente e questo è quello cedro e bergamotto che ha una profumazione top piace vedere come le mie amiche non abbiano messo solo detersivi ma anche prodotti beauty ma non ci frega niente perché ormai questo è De Marietta Spiccetta quindi parliamo De Marietta Spiccetta e facciamo un fritto misto mi hanno preso questo disinfettante per il bagno della Lisoform mai provato il disinfettante spray della Lisoform quindi sono molto curiosa la confezione è da 750 ml e appunto serve ad igienizzare soprattutto il bagno poi vi farò sapere si ha anche un'azione anticalcare spero non abbia la profumazione disgustosa che hanno di solito gli anticalcare anche se sono fiduciosa perché di solito la Lisoform fa profumazioni molto buone ma poi ecco vi farò sapere anche di questo no vabbè ragazzi io amo l'accuratezza con cui hanno scelto i prodotti perché nessuno è doppio ognuno ha una funzione hanno scelto giustamente anche di regalarmi il Vici Gel questa è della Lisoform la confezione da 750 ml e oddio la profumazione non so quale sia però insomma credo sia il classico profumo dell'Isoform e dovrebbe igienizzare sbiancare sciogliere il calcare rimuovere germi e batteri appunto avere un profumo fresco ho messo anche due confezioni di dentifricio sono entrambi della Mentadent il primo è il Whiten System protezione smalto il secondo invece è quello sbiancante protezione carie oltre al detergente che vi avevo fatto vedere prima questo è cedro e bergamotto che amo mi hanno messo anche la ricarica ecco qui dell'altro detergente questo è fiori di lavanda e la confezione è da quasi due litri un litro e novecento in tema pulizia a casa mi hanno preso il Cif questa è crema con microcristalli allora per chi non è più ciovane come me vi ricorderete sicuramente che questa negli anni novanta era un must have è cambiata molto la confezione era molto più tonda anzi se riesco vi metto una foto qui ma è la stessa perché sono andata ad annusare ed è lei è la crema con microcristalli che ragazzi non so voi ma le donne di casa mia la utilizzavano per la qualunque cioè mia madre ci puliva tutto e la cucina e il bagno e il pavimento e il balcone cioè questa era la crema mille usi e non so ecco mi ricordo appunto appena l'ho annusata mi ha ricordato la mia infanzia fatemi sapere se anche le vostre donne di casa utilizzavano il Cifo se lo utilizzate ancora e mi ricordo che veramente anche quasi per sbiancare l'argenteria cioè questo ha mille mille usi passiamo un attimo al beauty e ci hanno regalato parlo al plurale perché il 22 maggio non è solo il mio compilano ma anche il compilano di Andrea questi due adodoranti hanno scelto per lui il Dove Man Care questo è Clean Comfort la confezione da 150 ml dovrebbe durare 48 ore poi vi farò sapere nel video dei prodotti terminati cosa ne ha pensato Andrea o comunque cosa ne pensa Andrea di questo prodotto e questo che è un must have è il Dove Talco c'è da dire che ultimamente non amo moltissimo la profumazione Talco però ecco il Dove è veramente veramente buono e anche questa di confezione da 150 ml sempre a marchio Dove hanno scelto questo doccia schiuma la confezione da 250 ml stavo leggendo che contiene un quarto di crema idratante quindi dovrebbe essere super idratante e poi ci sono dei prodottini per i capelli sono tutte e tre a marchio Sunsilk allora il primo si chiama Scintille di luce più effetto sete ed è Sunsilk by Chiaranasti allora contiene olio di argan la confezione da 200 ml stavo leggendo che va utilizzato prima della piega per proteggere i capelli dei danni del phon dopo la piega perché dona un tocco di extra brillantezza si può utilizzare anche tutte le mattine per disciplinare i capelli crespi e durante il giorno per andare a rimodificare un attimino le pettinature e rendere i capelli più luminosi la mia amica lo usa ha detto che si trova benissimo e soprattutto serve appunto a donare lucentezza e a dominare il crespo quindi insomma poi vi farò sapere in un video dei prodotti terminati sempre della Sunsync e sempre Scintille di luce questa è una crema disciplinante senza risciacquo specifica sempre per capelli spenti e crespi le mie amiche sanno che ho i capelli spenti e crespi questa può essere utilizzata sui capelli bagnati per disciplinare appunto i capelli prima della piega quindi combatte l'effetto crespo per i capelli lunghi o indomabili quindi si applica il prodotto più volte durante la piega per avere il massimo della morbidezza oppure sui capelli asciutti per andare a disciplinare il crespo e per donare lucentezza e la confezione è da 75 ml e per ultimo ma non ultimo della stessa linea mi hanno regalato anche l'olio nutriente come vi dicevo prima contiene olio di argan la confezione è da 75 ml a tre modi di utilizzo può essere utilizzato prima dello shampoo come impacco a capelli asciutti quindi come ultimo step per donare luminosità oppure come lo uso io sempre qualsiasi olio per i capelli capelli bagnati l'ho andata a testa fino alle punti e poi andata ad asciugare ho notato che gli oli messi sui capelli bagnati mi rendono i capelli meno secchi invece se vado a mettere sui capelli asciutti me li secca molto quindi ecco lo utilizzerò così e anche di questo poi vi farò sapere in un video specifico sono riuscita finalmente a svuotare la box mi manca l'ultimo prodotto che pesa una quintalata è della Lisoform e lo sanno che io amo la candeggina e mi hanno regalato una confezione maxi di candeggina della Lisoform ma questa è da due litri e mezzo e che ve lo dico a fare ragazzi io adoro l'odore della candeggina questa della Lisoform poi è top quindi non mi perderò in chiacchiere grazie 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 per avermi regalato questa box ok siamo arrivati alla fine del video e volevo prima di tutto ringraziare pubblicamente le mie amiche grazie ragazze voi sapete che mi avete resa felice non sto scherzando perché sono una vera marietta spiccetta e quando mi regalate queste cose io vado in brodo dei giuggiole poi volevo salutare ringraziare tutte voi sperando che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se avete già provato alcuni di questi prodotti se volete testiamo insieme in un video specifico i prodotti della Sunsilk per i capelli perché la mia amica Ele mi ha detto che sono fantastici anzi fatemi sapere se volete che ve lo faccia però vi voglio anche dire che ho trovato una piastra pazzesca ragazzi per il compleanno mi hanno regalato una piastra top Andrea mi ha regalato la piastra della vita veramente fatemi sapere con un commentino qui sotto se volete che la testiamo insieme perché io sono riccia e crespa e potremmo magari utilizzare questi prodotti e farvi vedere anche la piastra potremmo fare un video tutt'uno quindi fatemi sapere noi come al solito ci vediamo qui sul canale una volta a settimana se volete che io sia un po' più presente che magari non vi basta un video a settimana vi metto il link qui sotto di Instagram eccolo qui apparirà il mio nome lì mi trovate e riesco appunto ad essere molto più presente io ora non mi perdo in chiacchiere voglio Anna Spolvera voglio prova tutto un bacione grandissimo e al prossimo video se vi va iscrivetevi al canale ciao